Liturgia della settimana. Vangelo del giorno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo. Io vi battezzo con acqua. Ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo. Tu sei il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Lode a te o Cristo.